Io non credo che in Italia stiamo andando verso una deriva autoritaria, cioè non credo assolutamente che si possa paragonare il governo di Giorgia Meloni, almeno per le cose che ha fatto finora, al governo di Moravieschi in Polonia o al governo di Orbán in Ungheria. Insomma, siamo ancora lontani da una democrazia illiberale, anche se certo Meloni è donna di destra, estrema, e fa cose di destra, cose che a un progressista come me certamente non piacciono, però secondo me bisogna essere anche oggettivi e tarare il livello dell'allarme alla situazione vera. Poi può darsi che le cose peggiorino, però per me le cose oggi stanno così. Dopodiché gli eventi di Pisa, le manganellate ai ragazzini indifesi, sono una cosa che non si può vedere, che non deve accadere mai, e bene ha fatto il Presidente della Repubblica a segnare un po' il confine e a spiegare quali sono i limiti che un uomo di grande esperienza come il Ministro Piantedosi deve necessariamente osservare e far osservare. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi, che il 26 febbraio 2024, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan, e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan. Una storia al giorno, dal lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone con divisione, che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento. Questo è il comunicato che è arrivato dal Presidente della Repubblica sabato, tra l'altro pubblicato sui social media con una certa evidenza, anche con una card esteticamente, devo dire, anche molto bella, e che ha evidentemente sconquassato un po' il mondo della politica, perché questo comunicato è evidentemente un comunicato senza precedenti. È un passo formale del Presidente della Repubblica, al quale si è voluto dare da Colle una evidenza notevolissima, ed è un monito molto fermo da parte del Presidente della Repubblica, che segnala una preoccupazione di Mattarella sull'andamento generale delle cose. Ecco, io non credo che dalla Presidenza della Repubblica si potesse fare un passo così visibile, così vistoso, mi viene da dire, se questo non fosse stato l'episodio di Pisa, intendo l'ultimo di una serie di episodi che probabilmente hanno creato qualche pensiero sul Colle più alto delle istituzioni italiane. Devo dire che anche il contenuto del messaggio ci dà almeno due elementi di riflessione importanti, perché il Presidente della Repubblica da un lato dice attenzione, la polizia è autorevole se è capace di sicurare un senso di sicurezza a tutta la collettività, e dall'altro dice attenzione anche ai ragazzi, attenzione a questa generazione. Sono due passaggi molto importanti, secondo me, e devo dire che dal primo, per quanto riguarda il primo di questi due passaggi, io mi trovo ovviamente d'accordo col Presidente della Repubblica, non soltanto come un suo sostenitore in generale, ma anche come ex sottosegretario al Ministero dell'Interno, nel senso che ritengo che la reputazione della Polizia di Stato, delle forze di Polizia in generale, sia nel nostro Paese molto alta, proprio perché negli ultimi decenni, direi, da quando 40 anni fa fu approvata la riforma della Polizia di Stato, c'è stato, direi, un percorso di maturazione democratica importantissimo della Polizia, ma in genere appunto di tutte le forze dell'ordine, che vengono considerate giustamente dall'opinione pubblica un pilastro portante della nostra società e della nostra democrazia, il ruolo che le forze dell'ordine hanno nell'assicurare davvero la sicurezza della nostra collettività, anche dell'intelligence direi, pensate al ruolo per esempio della Polizia Postale, che sorveglia tutto il grandissimo tema della rete, pensate a tutta la lotta alla pedopornografia per esempio, al terrorismo in particolare di matrice islamica, che ha colpito tantissimi paesi in Europa, ma fortunatamente, e naturalmente incrociamo le dita, diciamo non ha colpito in Italia anche per la capacità, per la bravura delle nostre forze dell'ordine, insomma devo dire che io penso che la reputazione della Polizia sia molto forte nel nostro paese e penso che sia, tra le altre cose, proprio interesse della Polizia fare in modo che le mele marce, come si dice con un termine un po' abusato, siano individuate e punite. Io credo che eventi come quello che si è prodotto a Pisa, poi alla fine ricadano sull'intera categoria, diciamo, della Polizia e delle forze dell'ordine, che sono normalmente, e questo appunto lo posso testimoniare, avendo lavorato al Viminale, persone di altissima professionalità, che lavorano con un enorme sacrificio personale, con stipendi, devo dire, nella maggior parte dei casi non adeguati e che davvero fanno un lavoro discreto, professionale, appunto, che poi tra l'altro ha anche una grandissima reputazione, devo dire, a livello internazionale. A me è capitato di andare a visitare l'Interpol, l'AIA e le nostre forze di polizia, davvero, anche a livello europeo, sono considerate tra le migliori. Per cui nel momento in cui si producono eventi come quello di Pisa, è chiaro che c'è un colpo alla reputazione collettiva delle forze dell'ordine che non va bene. Tra le altre cose qualcuno a destra dice non bisogna processare tutte le forze dell'ordine, ma proprio per questo bisogna individuare le singole responsabilità, sia del poliziotto che si fa scappare il manganello e non dovrebbe. Anche di chi ha ruoli direttivi, naturalmente, perché poi la polizia ha una catena gerarchica di comando e quindi quando errori sono commessi non è responsabile soltanto il singolo, diciamo, poliziotto che si trova in prima linea, ma chi gli ha dato delle istruzioni. O chi non ha passato un messaggio chiaro ed evidente di adesione ai valori repubblicani va colpito, per cui non ce la si vuol prendere col singolo poliziotto. Però d'altro canto io penso che nella stessa ottica lavorare per esempio per l'identificazione dei singoli poliziotti con il numero di identificazione, per esempio come succede in tanti paesi, non deve essere considerato un attacco alla polizia così come non doveva essere considerato un attacco alla polizia in generale l'approvazione del reato di tortura, per intendersi. Ecco, colpire chi sbaglia significa anche evidenziare invece i meriti delle tante persone, dei tanti professionisti che fanno il loro lavoro non solo onestamente ma con grandi capacità e grande spirito di sacrificio e quindi secondo me distinguere quei quattro facinorosi che ci sono in tutte le comunità e quindi ovviamente ci sono anche nella polizia di stato, nella polizia penitenziaria, perché non possiamo nasconderci dietro un dito. Un problema c'è, io come sapete mi occupo molto di carceri e devo dire che la polizia penitenziaria fa un grande lavoro nella stragrande maggioranza dei casi ma non posso negare che ci sono stati casi nei quali la polizia penitenziaria, il singolo poliziotto o alcuni poliziotti penitenziari hanno fatto cose assolutamente indecenti commettendo reati che devono essere puniti come tali e quindi io credo che bene abbia fatto il Presidente della Repubblica a sottolineare questo punto. E poi c'è il secondo punto che credo sia altrettanto importante, cioè quello di considerare che se dei ragazzini escono per strada a manifestare, nonostante io in questo caso come sapete sia assolutamente contrario alle cose per le quali loro manifestavano in questa specifica circostanza, va salvaguardato il loro diritto di esprimersi anche perché è una generazione alla quale rimproveriamo un distacco, un'apatia, li rimproveriamo sempre di stare sui social media e basta nel momento in cui scendono in strada vanno ovviamente tutelati. Questo non significa che poi non ci siano degli infiltrati, dei faci norosi, questo è evidente ed mi rendo conto che nella situazione è poi difficile distinguerli, però bisogna stare attenti e la professionalità alla quale appunto è chiamata la Polizia di Stato, le forze dell'ordine, comprende anche la capacità di distinguere che se ci sono dei ragazzini indifesi che non sono armati d'altro che del loro zaino, diciamo così, che non stanno sfondando, che non sono armati di spranghe, non sono mascherati, magari stanno scappando, non possono essere rincorsi ed essere malmenati. Il facino rosso è fatto diversamente, il black bloc è fatto diversamente e bisogna necessariamente distinguere gli uni dagli altri. Comunque certamente un passaggio dal Quirinale da sottolineare, io credo che il governo debba mettere un sovrappiù di attenzione, anche perché è innegabile la provenienza ideologica dalla quale arrivano li mette sotto un'osservazione particolare e questo è un dato di fatto, può piacere o no, ma le cose stanno così e quindi al ministro Piantedosi è richiesto probabilmente un surplus di attenzione, di diligenza, di professionalità e uomo di grande esperienza sa di averla, che la usi. Io mi fermo qui, noi ci sentiamo domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.